Buonasera a tutti, è un buono. Sì, deve essere. Buonasera. Andiamo avanti con noi in the dark. Non mi ricordo che forse lo dobbiamo fare. Lo voglio uscire dal parcheggio. Bella. Allora. Qui. Ah, no. Così. Buongiorno. Non mi ricordo più. Un po' che non ci gioco. Un po' che c'è da una sciolvera in testa. Un testo, non so di da una sciolvera, non va via. Un po' che c'è da ogni fuoco, aspetta. Vediamo. Sì. Buono. Sì. Un po' che cazzo è che da qua. Un po' che c'è da qua. Un po' che c'è da qua. Ah, non l'avevo mai fatto. Vai a vedere. Ok. Volevo... Perfetto. Sì, ma... Mmm... Se non mi... Ok. Lo vedo ovviamente un cazzo. Ok, vai. Cazzo. Dio, sembra che l'hotel sia stato bombardato. È l'epicetta. Ho liberato un demone che ha atteso secoli per la sua vendetta. Questo è ciò da cui ti ho liberato, Edward. Ciò che era nella pietra. E ora la riguardo, giusto, Theo? Cos'ha di importante? questa pietra. Sarà arrivando! Verso il barco, aspetto! Va bene. Ve lo ricordo, la FCB... 8 milioni di volte questa... Questa... Questa parte. Questo perché il sistema di ulteriore è un capolavoro. Ok. Via. Comunque non si vedono se la visibilità è... Bassissima. Ok. Ma così è pure peggio. Tanti. No. Passo qui. No, no, no. No, no! No! rifarmi un po' di volte perchè in tutti i videogiochi normali avrei disintegrato il pallo ho beccato l'unico gioco dove non disintegro i palli grazie davvero grazie mille come metto la pulizia che ok no che cazzo slitta cazzo è meno complicato guidare nella realtà ok allora la visibilità cioè posso ancora andare in prima persona e da qua in poi che scompare la visibilità ok ok perfetto ciao perfetto vai la prima persona è un lusso che non posso permettermi più ok no no non vediamo dove cazzo sto andando ok no 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 via no 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 via completamente contromano l'altro tu hai sbagliato la strada dove mi fai perdere no dall'inizio oh mio dio dall'inizio ok niente più prima persona mi perdo allora ve l'ho detto questa volta la facciamo otto volte non c'è problema tanto non ho fretta l'importante avere il video per le serie poi è che da scuola la scuola guida e quant'altro non sono riuscito nemmeno a giocare vada ci stiamo tutta la mezz'ora eh tutta non me la ricordavo vada quanta cazzo slitta o il cavottano che non è qui cesu cristo ok possiamo non possiamo più non possiamo più non è contemplato va bene eh vabbè via ce la possiamo fare cazzo mio dio terrificante non si vede un cazzo allora da qua in poi la prima persona la tolgo ok vai ok no 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 si incastrato ma vai tranquillo va bene allora qui posso ancora andare poi sono costretto ad andare qui poi costretto ad andare qui poi costretto ad andare qui cazzo cazzo quindi non è sbagliata la strada è che non devo beccare letteralmente niente non c'è non c'è modo di passare questa parte in maniera male no non c'è modo non c'è modo non si può fare non c'è modo 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 che non c'è modo non c'è modo no no ok ovviamente la macchina hanno aspettato che va sia ok 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 e da qua in poi in terza persona tanto mi sia pure aperto il bagagliaio di tutto ok no ok ok non aveva non aveva destino non aveva destino non aveva destino ok ok mi sei anche rotto i coglioni devo essere onesto perchè mi piacerebbe andare avanti no vedammi questa visuale per vai avanti oddio che incubo che cazzo di incubo non cazzo non cazzo non vedo ma ti pare che debba mettermi a fare manovra si avviene un quarto d'ora un quarto d'ora un quarto d'ora parca puttana non si può fare non si può fare vai sei già tolto perfetto tanto strage assoluta disastro incredibile casino inennarrabile palazzi che vanno a frame diversi rispetto a quelle che le manole sono ai parlo vai ok Ok Ma stiamo scherzando che cazzo di... L'incuadratura mi ha dato Ma stiamo in un'altra... Ehi, a chiò... Non pensavo che c'è il mio... Ma non esco... Non esco... Non esco... si e sicuro è grandito me la ricordavo un incubo a sta parte non così tanto ammetto non così tanto ma non 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 sono concentrato sto giacando di concentrarmi e di non impazzire va bene lo stesso via no 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 va bene va bene cazzo funziona cazzo funziona non ho fatto niente di diverso dall'altra volta dalle altre volte non si sopra via cazzo sto passando via che un soldo devo andare a scuola via vero? ho anche studiare questa è l'unica mezz'ora che mi sono presa nella giornata porca di quella puttana la sto passando a morire è riuscito 20 minuti ci sono 20 cazzo di minuti 20 cazzo di minuti è una roba incredibile è una roba incredibile porca puttana porca puttana porca di quella puttana no no ho cambiato inquadratura ho cambiato inquadratura vabbè abbiamo capito che questo altro in terza persona non lo possiamo fare ok ti ringraziamo per l'avviso ora sto passando in avia non serve una sega perchè l'ho fatto non cambio più in volatone ti incurico ok che casino no poca puttana si mette i coglioni ok allora poi prendo questa cosa in guardature bello eh ora teniamo la terza che in prima non va bene quindi quindi ok 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 ce la puoi fare? no non ce la puoi fare ve l'ho detto detto questo video non finiamo la parte ma nemmeno le prossime nemmeno le prossime è un incubo cazzo di incubo alle economie in quale prima persona no ok no ah ho capito perché mi dà l'inquadratura sia su quello che sta succedendo come se me ne fregasse qualcosa e poi sulla macchina beh ma è geniale cazzo perché non ci ho pensato anch'io forse perché io direi di merda intanto arrivo qua e muoio arrivo qua e muoio guarda ci impiega tutto sempre arrivo là e muoio non c'è niente che io possa fare niente letteralmente niente ok prima persona davanti recoglio no muoio di nuovo non posso saltare posso saltarla se non sbaglio posso vero no mi sa di no l'hai risaltata sono lì lì per saltarla perché pergadonna non credo di poterlo fare è una delle parti peggiori della storia dei videogiochi lo è lo è penso lo sia perché perché un attimo no no c'è una scena importante che non mi ricordavo come questo saltato che palle ametto si è sbagliato del cazzo E' orripilante No, 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 sbagliato, dovevo incominciare C'hai capito? Passa... Guarda! Oddio Ma tutto non ce la farò Aspetta, prima della fine del video, col cazzo che ce la faccio Col cazzo E' proprio escluso E' proprio escluso Perché Siamo in baltata la macchia In base a cosa? Siamo in baltata la macchia Capita tutti i giorni, no, altra onda Allora No, eh, che cazzo No, la colonna sonora è figa, però Almeno sono mangiato tantissimo Almeno una colonna sonora è figa Ma visivamente non è nemmeno invecchiato malissimo Il problema è che fa dalla mano Ok Porca di quella puttana E' una roba incredibile E' una roba incredibile E' una roba incredibile Poi mi ha inquadratura sul muro Guarda com'è Un'vicinante Ok 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 Dai Ho io mai più Ho io mai più Ho io mai più Va bene Va bene Va bene, va bene Cazzo Ci ho messo solo mezz'ora Abitiamo di mandare tutto a puttana Fa' un culo Fa' un culo Sbrigati Andiamo al museo Prima che raduni un esercito più grande Quale esercito? Di cosa stai parlando? Va tutto bene? No, non va bene Lui è ferito E io sto per impazzire Scommetto che quello era un dieci sulla scala Richter Silenzio Senti, non ti ho chiesto io di seguire Silenzio Tutte e due Ehi, 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 ehi Calmati, Teo Senti, mettiamo giù la pistola, ok? Sei l'unico che può fermarlo, Edward Io sono troppo debole Dovrai percorrere la via della luce Ciò per cui ti sei preparato per tutta la vita Cos'è la via della luce? Di che diavolo stai parlando? Ecco la pietra che hai portato così a lungo Ormai è quasi innocua, ma... Nelle giuste mani ancora del potere Tu sei la nostra unica speranza Non sarò uno dei tuoi burattini, mi senti? Ci vediamo al museo, stanza 943 No! Oh, oh, oh! Ora ho capito cosa intende saltare sequenze, quindi avevo saltate anche nella prima, va bene, molto bene, si salva tutto quello che vuoi, e ci riprendiamo dopo, non fa culo.